Il nostro appartamento di lampi ha un facelift nuovo. Abbiamo visto quanto le lampi sono le nostre. Le lampi sono vintage, le lampi sono sanguiglie, le lampi per fuori, le lampi per per dentro. Tutti i tipi di lampi. Abbiamo visto che è una varietà incredibile per il nostro canale. Abbiamo visto che ci sono tantissime e il prezzo è incredibile. Ho visto che sia speciale, ma abbiamo visto che sia un canale e potete comprovarci. E' una varietà più grande di tutto quello che si tratta. Questo è un'opera di luci. Le lampi, le lampi, le lampi, le lampi, le lampi e le lampi. Questo è un'opera di luci. Questo è un'opera di luci. Questo è un'opera di luci. Un'opera di luci.